L'avevamo incontrata circa quattro anni fa a Pratiditivo di Pietracamela durante una tappa del RT8 Tour Village in una giornata di sport organizzata dal CSI di Teramo. Sorridente, gioiosa, ironica e sognatrice, convinta di poter raggiungere risultati importanti nella marcia. Antonello, ancora una domanda per te. La marcia era il tuo sport, il tuo sogno da bambina oppure hai provato altro e poi hai trovato più concorrenza, più difficoltà e ti sei buttata nella marcia. No, veramente io ho iniziato con la palla a volo da piccolissima, facevo la racchetta a palla a cinque anni quindi ho iniziato da piccolissima, poi ho fatto una gara campestre e quindi corrivo e di lì ho iniziato a correre perché mi piaceva di più forse lo sport individuale, quindi di essere da sola e competere da sola. Poi in assenza di gare agonistiche di corsa ho partecipato una gara così di marcia, l'ho vinta senza problemi, lì mi sono detta vabbè se è così facile vincere facciamo la marcia, vuol dire che sarò più portata, forse lì era un pochino più scarsa, non lo so, però sicuramente. E quindi di lì è iniziata la mia passione per la marcia, però quando ero piccola non la conoscevo affatto. Dopo quattro anni Antonella Palmisano ha aperto il cassetto più importante e ha toccato con il suo sogno più grande, quello di color oro. A Tokyo, certo, non sulle montagne abruzzesi, stavolta festeggiando con il sushi, chissà, non con un arrosticino. Ma siamo sicuri che quel giorno lo ricorderà con piacere anche perché consigliamo proprio a lei di rifocillarsi dopo ogni fatica sportiva con uno dei nostri piatti più conosciuti. Congratulazioni Antonella, ora puoi mordere la medaglia più bella.